Senti, come è la prossima? Allora, finì la prossima, andiamo a gusto carotto a vedere alcuna tesa e magenta un vario, dai, dai, dai ti chiamo magenta domenica 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 lo facciamo a prendere andiamo a alcuna tesa e magenta e sarà dopo gioca in casa e ci mettiamo dalla parte e vediamo l'olio salsamo ahahah ahahah ah 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.